La situazione è che da troppo tempo il Piemonte, non solo Torino, è in un'area di alta pressione e quindi non si ha una piovosità che è quella che normalmente in questi mesi si ha. Quindi siamo a meno 60% ed è chiaro che si può benissimo arrivare ad avere una normalità quest'estate se i prossimi mesi ci fossero delle precipitazioni adeguate. L'agricoltura è sicuramente in crisi ed è effettivamente la realtà che oggi ha difficoltà a far partire le semine e quindi la germinazione delle piante perché su un terreno asciutto non si riesce a coltivare e quindi sarà necessario rivedere l'organizzazione dei bacini idrici in tutto il Piemonte. Beh, preoccupazione c'è sempre. Noi il 75% dell'acqua la prendiamo da falde profonde a 130 metri e quindi riteniamo che quelle falde siano adeguatamente cospicue e non ci saranno problemi però per comuni montani di sicuro ci possono essere dei grandi problemi.